Siamo molto contenti, ormai non dico che non è una notizia perché ogni volta raccontiamo di una città che consolida record di presenze turistiche che non ha mai avuto nella sua storia. Siamo soddisfatti perché sappiamo il lavoro che c'è dietro, il lavoro dell'amministrazione, mio personale, di tantissimi napoletani, di tanti operatori, quante sfide ci sono dietro a tutto questo e quante sfide ce ne saranno ancora, quanti ostacoli ci hanno messo anche nei giorni scorsi per far ritornare Napoli nel baratro. Questa città ormai ha intrapreso un viaggio che nessuno può arrestare. Dobbiamo semplicemente consolidarlo, migliorarlo, stiamo sui servizi, sui servizi c'è ancora tanto da fare. Però soprattutto siamo soddisfatti perché la gente è contenta. Sono contenti i napoletani, sono contenti i turisti. In un mondo pieno di ansie e preoccupazioni, venire a Napoli diventa anche un momento di felicità e di allegrie. Chiaramente da sindaco e da napoletano non posso che essere lieto di questo e mi sembra giusto che all'esito di questo ponte pasquale venga sottolineato con correttezza.